È iniziato tutto da un'idea, indagare il confine della normalità, con un obiettivo manifesto, restituire all'arte un chiedipuro quasi mistico. Cesar Meneghetti trasfigura la disabilità in un videoopera che sarebbe impossibile non definire speciale. Sono speciali i protagonisti, lo è il mezzo. È speciale perfino il titolo, Io, io e un altro. Un progetto che per tre anni ha coinvolto a Roma più di 200 disabili dei laboratori d'arte della comunità di Sant'Egidio e ha preso forma nel tempo attraversando una serie di incontri. Un percorso che l'artista brasiliano ricorda così. In un luogo chimicamente isolato si prendevano delle persone e si provava a parlare in una maniera orizzontale dove non c'era regista e intervistato, ma c'erano due esseri umani che si confrontavano, un po' più o meno come stiamo facendo adesso. Si confrontavano e io non ero, io non volevo, io volevo solo conoscere, io non li conoscevo quasi per nulla, veramente. Io volevo solo conoscere la loro realtà, i loro sentimenti, le loro cose. Erano persone comuni, straordinarie, ma ordinarie allo stesso tempo. E dicevano delle cose bellissime, però semplicissime. A un certo punto questa cosa si è rovesciata e loro hanno cominciato a intervistare a me e non solo a me, ma anche alla curatrice e anche a delle persone che erano coinvolti o sia nel laboratorio o nel processo dei pseudo normali. L'opera è questa sintesi della tese, è questa sintesi di questo rapporto. Però infatti è una cosa che per me anche adesso con Alberto stavamo, abbiamo fatto un montaggio stennuante di mesi e mesi per trovare delle cose giuste. Un'indagine personale basata sul linguaggio, sulla comunicazione, sull'espressione e sulla collaborazione con persone con difficoltà fisiche e mentali che si sono messe a nudo di fronte ad una telecamera. Per poi in un divertente gioco di ruoli diventare a loro volta quelli dall'altra parte dell'obiettivo. È stato un lavoro molto corale insieme a delle persone che lavorano, conoscono questo problema da oltre trent'anni, che lavorano e sono volontari del laboratorio. Per cui non è una problematica, è una cosa che nel corso degli anni hanno capito che c'era una intelligenza parallela, dove uno pensa che non esiste un'intelligenza. E io ho percepito questo proprio dal primo incontro. Non ho mai avuto prima nella mia vita a che fare con la disabilità di nessun tipo e qui avevamo un gruppo eterogeneo di persone disabili, di vari tipi fisico-mentale, ma che avevano una tale carica espressiva, una tale, forse voglia di dire delle cose, che si trova raramente anche in molti artisti. Alla fine però è l'arte stessa ad uscirne trasfigurata. Una rivoluzione in atto? Forse o forse no, ma poco importa. Quel che conta è la magia. Tutto sotto lo sguardo attento e complice dei due curatori, che hanno seguito il percorso fin dall'inizio, Alessandro Zuccari e Simonetta Lux, la storica d'arte che ormai da anni segue i laboratori della comunità di Sant'Egidio. E con la collaborazione del commissario del progetto, Antonio Arevalo, incaricato dalla Biennale di Venezia, della cui sezione l'opera fa parte. La videoinstallazione sarà in mostra fino a novembre nel padiglione Kenya, incentrato proprio sulla riflessione sulla natura delle cose, nella cornice dell'isola di San Servolo, che neanche a farlo apposta, dal 1725 al 1978, ha ospitato uno dei più grandi manicomi del Veneto.